Dario Spuri, il presidente dell'associazione Gli Attidiati. Abbiamo sentito tante parole belle dedicate all'associazione. Ci può brevemente presentare questa iniziativa che parte dai cittadini? Sì, allora questa associazione in pratica si è costituita nel 2007. Diciamo tra appassionati un po' di storia, di archeologia, perché vedevamo che il sito archeologico, non tanto all'interno, quando l'area circostante era un po' così abbandonata. Quindi abbiamo fermato questa associazione, che tra l'altro è anche una Ollus, quindi abbiamo finora pulito l'area circostante e poi con i fondi del 5x1000, ai quali abbiamo attinto nei diversi anni, li abbiamo spesi sia per mantenere pulita l'area e abbiamo collaborato anche con la professoressa Petraccia per il libro su Attidium. Abbiamo poi, come ha già ricordato l'assessore Balducci, anche l'acquisto dell'area stessa e quindi andiamo avanti così. Speriamo anche che in seguito questi fondi ci possano servire anche per fare altri scavi. Quindi questo è l'ospicio che abbiamo per il futuro. Collaborate anche con Don Umberto? Sì, beh, questo è scontato, quindi senza altro, anzi, dopo che lui è venuto, insomma è stata una spinta in più che ha incentivato sia il nostro lavoro che le prospettive future, insomma. E siete anche presenti in diverse occasioni, la notte di volontariato? Sì, sì, infatti collaboriamo anche con le altre associazioni di volontariato di Fabriano, parteciperemo anche alla festa del volontariato che quest'anno si sarà il 31 di agosto. Quindi anche oggi tra l'altro ho partecipato lì a preparare alcune cose. Quindi siamo abbastanza attivi, insomma.